Buonasera, buonasera anzitutto all'avvocato Paolo Rumora perché è ovviamente la sua opportunità offerta alla Biblioteca La Ligna, questa sera insieme anche con un coautore importante di questa seconda edizione ma anche nell'altra, mi sembra che ci consente, solo che l'altra io l'avevo anche cercata, non sono riuscito a reperirla per cercare di cogliere l'arricchimento di questa seconda edizione dell'altra Europa. Naturalmente anche leggendo il titolo di questo volume scritto anzitutto dall'avvocato Paolo Rumora che è l'artefice principale, però anche dall'architetto Loris Bagnana, ma non è un parente, ma pochie serie di parossero qui questa sera, ma poi c'è anche il dottor, professore, esperto, politologo e di tante altre rami scientifici, Giorgio e Galli. Siamo qui a una seconda edizione definita appunto riveduta e ampliata di miti, congiure ed enigmi all'ombra dell'unificazione europea. E allora non possiamo dimenticare che l'anno scorso abbiamo cercato i 60 anni, dal 1957 dalla Costituzione e Fondazione dell'Unità Europea. Avevamo scoperto poi a dicembre del 2016 presentando l'altro volume di tipo storico familiare con la riscoperta della grande famiglia dei Rumor a Vicenza, una bella e interessante perché io che mi accingevo a tenere una conferenza all'istitutore Zara, ho avuto la possibilità di allungarla, ripartendo invece che dal 600 della famiglia Rumor, addirittura dal 400. E quindi devo dire che è stato un volume senza altro interessante che naturalmente ero in grado di anche di leggere e di capire in maniera più ponderata. E qui devo dire che mi sono trovato in un certo imbarazzo, non solo perché l'amuale è piuttosto notevole, ma poi perché il tema di questo evento importante della Costituzione dell'Unità Europea viene inquadrato in una panoramica, in senso spaziale e in senso cronologico, quindi in senso anche storico, di una dimensione che è difficile di immaginare che l'Unione Europea sia collegata a una struttura che alcune carte segrete, più o meno, magari Paolo figlio del grande Presidente della Camera di Commercio degli anni 50, grande interprete e protagonista della ricostruzione del territorio vicentino, ma potremmo dire del territorio verito, ma anche di ambito nazionale per non dimenticare, e qui naturalmente leggendo il libro siamo portati a capire un po' di più l'importanza a livello europeo con rapporti molto stretti con Schumann, però va anche con il signor Contini, Papa Paolo V, magari qualche cosa anche collegato al Cardinale Spelman, per cui avete una visione leggendo questo libro che, indubbiamente, con grandi punti interrogativi, questa Unione Europea rientra in un progetto grandioso, grandioso, con tanti punti oscuri, con tanti apporti misterici, possiamo dire, o esotici, per cui solo chi l'ha scritto, chi ha dato degli apporti può fornire degli elementi, però lo stesso Avvocato Paolo si pone tanti interrogativi e anche spesso ricorda che ha preso nota di ciò che ha sentito raccontare o di ciò che ha intravisto, però non avendo la cognizione precisa e puntuale di questi specifici riferimenti. Quindi è un libro interessantissimo, che d'esta curiosità, che bisogna leggere con un po' di calma perché è di una intensità di annotazioni di personaggi che spaziano, come vi dicevo, attraverso tutte le epoche storiche partendo dagli egiziani per arrivare agli Stati Uniti, per ritornare in Vaticano, per ritornare ad altri apporti a livello veramente internazionale. Quindi possiamo dire una visione universale di un qualche cosa che è l'Europa e siamo qui a discutere ancora sulla validità di questa Unione Europea. e lì si offre tanti altri spunti di allargamento del visuale. Quindi la ringrazio. Grazie a lei. Le lascio all'Avvocato, ovviamente, introdurre la presentazione. Intanto buonasera, ringrazio di essere venuti. Chi mi conosce sa che preferisco leggere le mie presentazioni. Non sono abituato, anche per questione di retaggio lavorativo, ad improvvisare. Quindi leggerò e in questo modo sarò anche più conciso. Il libro che oggi presentiamo è la riedizione di quello edito nel maggio 2010 dalla Hobby & Work. Quel testo rivelava il contenuto della corrispondenza personale intercorsa tra Maurice Schumann, futuro segretario di Stato francese agli affari esteri, e mio padre, Avvocato Giacomo Romor, negli anni correnti tra il 46 e il 53. Ancora al tempo del gabinetto Pari, cioè nell'estate del 45, mio padre era stato incaricato dal ministro degli esteri, Acide De Gasperi, di partecipare all'attività di studio per l'approntamento dell'Unione Europea, che era in embrione. E durante gli incontri di questa funzione era assorto con lo statista francese un rapporto di reciproca stima. Mi rendo conto di annunciare, di dire cose che forse pochissimi di voi sanno anche dei miei parenti. Dei miei parenti credo nessuno abbia conoscenza di questo. sia perché mio padre non ne parlava, e ne parlava poco anche in casa nostra, sia perché io stesso non ho ritenuto di parlarne con altri. Quindi, prima dell'incarico della Camera di Commercio per cui lui è conosciuto a Vicenza, ha avuto questo intervallo di un paio d'anni in cui ha prestato queste funzioni nell'ambito di un'Unione Europea, che ancora non si chiamava così, ma veniva formandosi in maniera del tutto, diciamo nascosta, anche se non era questa l'intenzione, veniva formandosi in gabinetti, in settori privati delle ambasciate o dei ministri, ministeri. Nell'ambito di questa amicizia, Schumann gli aveva confidato che il nucleo più intimo dei fautori dell'Unione apparteneva a un gruppo di persone aderenti a una struttura esistente da lunghissima data. Diceva che nel corso delle epoche storiche, essa aveva assunto varie denominazioni per dissimulare la propria identità e che aveva influito negli avvenimenti del passato come stava facendo anche nel presente. E quando parlo di presente intendo presente anche di adesso. Questa entità retrocedeva nel tempo dal XIX secolo fino a un periodo molto remoto in cui avrebbe costituito sostanzialmente il primo organismo civile complesso nel vaccino meridionale del Mediterraneo. Schumann aveva consegnato a mio padre un elenco di personaggi, alcune centinaia di noi, componenti quella struttura nel corso dei secoli, nonché alcuni disegni costituenti mappe geografiche e planimetrie che illustravano alcune località dove essa, quella struttura, era esistita, aveva avuto origine e i suoi luoghi di operatività. E anche questi erano diversi fogli dattillo scritti o pennellati. Quel materiale era sempre rimasto nella nostra abitazione di Vicenza, dove io abitavo da giovani in porta, un contraporto nove. Era sempre rimasto lì nella camera paterna e io ogni tanto andavo curiosare per leggere i nomi, trascriverli in alcuni miei appunti e consultare l'enciclopedia Trecani in modo da capire a chi si riferivano o cosa significassero. In questo modo quegli appunti sono rimasti con me anche dopo che mi ero sposato e avevo cambiato casa. Lui, il papà, è morto nel febbraio 81. L'appartamento è stato sgombrato quando è mancato l'ultimo fratello domenico nell'88, ma dopo lo svuotamento dell'abitazione non sono più riuscito a rientrare in possesso di quell'incartamento, sicuramente disperso per incuria dei parenti che vi avevano messo mano nonostante i miei avvertimenti. Come ho detto, avevo con me gli appunti e alcune copie di planimetrie in carta a carbone. Con questi ho ricostruito come riuscivo il materiale originario di Schumann, facendone un'elencazione quanto più precisa. Poi nel 2004 l'ho depositata alla Biblioteca Civica Bertogliana di Vicenza, alla sezione Scritti Politici, e non ci ho più pensato. Anni dopo ho letto il libro del professor Giorgio Galli, che è uno dei, ancora in vita, uno dei più significativi politologi nazionali, affare al mio forse più grande. Il libro dal titolo Enrico Mattei, Petrolio e complotto italiano, edito dalla Dalai. E ho notato la vicenda dell'ottobre 1962 relativa all'incidente aereo di Mattei, presidente dell'ENI. Io sapevo che mio padre era stato buon conoscitore di Mattei ancora dal tempo della Resistenza e che loro due si erano incontrati poi nell'ambito delle attività di ricerca del petrolio nell'alto Adriatico, uno come presidente dell'ENI, Mattei, l'altro, mio padre, della Camera di Commercio di Vicenza. Allora mi sono risolto a telefonare al professor Galli, che non conoscevo, per dirgli di aver letto il suo libro e di essere al corrente di quell'episodio, cioè che mio padre sapeva che la caduta dell'aereo di Mattei a Bascapè, vicino a Milano, fu la conseguenza di un attentato, come aveva ipotizzato Giorgio Galli nel suo libro. A mio padre risultava inoltre che le iniziative di Mattei nell'ambito delle forniture energetiche italiane si intrecciavano in qualche modo con alcuni personaggi che operavano nell'ambito dell'Unione Europea, cosa di cui era conoscenza anche il Vaticano, in particolare Monsignor Giovanni Battista Montini, futuro Papa Paolo VI, che era stato l'assistente ecclesiastico del papà al tempo delle Fucci. Per un altro verso, lui si era anche reso conto, e questo me lo disse quando ero cresciuto, che elementi concreti e attuali dell'Unione avevano degli agganci, che peraltro non riusciva a comprendere, con persone estranee al movimento europeo, le quali tuttavia lo intersecavano senza una funzione apparente. In quel tempo io ero indubbiamente troppo giovane, perciò anche disinformato, quindi non ero in grado di pormi delle domande più approfondite. Non l'ho fatto finché lui è rimasto in vita, cioè entro i miei 35 anni, perché ero distratto dall'avviamento della mia professione e dal matrimonio. Molto più tardi avrei cominciato a collegare quelle sue parche osservazioni con ciò che accadeva nel mondo, intuendo che forse c'era un esso reale tra la documentazione di Schumann e gli avvenimenti politici o geopolitici. Galli vuole sapere qualcosa di più sulle mie fonti di informazioni, così gli inviai una copia dei documenti che avevo depositato alla biblioteca. Poi ci incontrammo da lui a Milano e dietro al suo suggerimento ci accordammo per scrivere un libro in cui io avrei esposto nel modo più organico che potevo ciò che avevo sintetizzato per la biblioteca di Vicenza e lui gli avrebbe aggiunto un'interpretazione come politologo. Prima però mi invitò a compiere una ricerca sui nominativi che comparivano nell'elenco di Schumann, quelle cartelle che vi ho detto prima. Quanto ai disegni planimetrici, chiesi aiuto all'architetto Loris Bagnara di Frenza perché avevo letto il suo libro dal titolo Il Segreto di Giza, edito dalla Newton e Compton nel 2003, dove gli parlava degli allineamenti astronomici di alcuni manufatti dell'antico Egitto. Perciò lo apprezzavo come ricercatore. In realtà fu lui ad accorgersi che alcuni disegni di Ameri copiati dall'incartamento Schumann riproducono i sotterranei della spinge e delle tre piramidi che sorgono sulla formazione Mokatan, cioè la piana conosciuta come antipiano di Giza nei pressi dell'antica Menfi, immagini dell'ordierna città del Cairo. E questa fu per me una grande sorpresa perché non avevo notato prima quel singolare collegamento. Nemmeno mi ero reso conto che la parte più antica della lista dei nomi di Schumann, quella lunghissima lista di centinaia di nomi, coincideva con quei luoghi e con quel tempo straordinariamente lontano. Diventava perciò una vera rivelazione scoprire che le confidenze di Schumann erano sorrette da elementi di verità, che perciò queste conferme avvaloravano ulteriormente quello che egli aveva confidato mio padre, cioè che l'Unione Europea era stata promossa da un organismo del tutto nascosto all'opinione pubblica, il quale si era attivato al momento opportuno, subito dopo la guerra, e affondava le proprie origini nei millenni, durante i quali esso era rimasto più o meno quiescente, tranne per esercitare qualche influsso di cui la storia ufficiale tuttavia sembra non essersi accorta. Il libro che ne è scaturito nel 2010 con nome mio, di Galli e di Bagnara, dal titolo L'altra Europa, editor della Hobby Work, ha suscitato un discreto interesse, stimolando altri ricercatori ad approfondire con i suoi contenuti, soprattutto l'indagine sull'elenco dei nominativi della lista Schumann. Mi riferisco in particolare al testo di Diego Marin Bassanese, intitolato Il Segreto degli Illuminati, edito nel 2013 della Mondadori, e alla pubblicazione di Bagnara del 2012, comparsa al numero 95 della rivista Nexus New Times. Sull'onda della curiosità, suscitata dagli appassionati di questi argomenti, si è deciso l'ora di aggiornare il libro. L'onis Bagnara ha svolto la parte più impegnativa che consiste appunto nell'esposizione delle ulteriori ricerche compiute a proposito della lista dei nomi. Galli ha aggiunto un proprio supplemento che evidenzia l'interferenza del cosiddetto contingente americano con la situazione attuale dell'Unione Europea, mostrando in questo modo come alcune componenti della lista o del racconto di Schumann siano tuttora vitali e influiscano nelle risoluzioni politiche e storiche contemporanee. Ciò rende anche più affascinante, qualcuno direbbe inquietante, la materia contenuta nella riedizione del libro, perché fa capire come un sistema organizzato, tenuto nascosto agli studiosi e alla gente comune, possa interagire in profondità nel mondo odierno, in particolare nella formazione di comportamenti a valenza pubblica che ciascuno di noi legge ogni giorno nei quotidiani. Mi rendo conto che mio padre e io avevamo sottostimato quel materiale e ancora nella mia prefazione alla riedizione emerge questo atteggiamento che quanto a me dipende forse da un'impronta scolastica dalla quale faccio fatica a distaccarmi. Ringrazio i collaboratori appassionati di quella materia così fluida che è la mitostoria per aver dedicato tempo ed energie a individuare meglio di me i personaggi e le località che il fondatore dell'Unione Europea aveva trasmesso a mio padre, per la parte che si è salvata dalla dispersione dei documenti che possedevo. Ringrazio il professor Giorgio Galli per avermi espronato a ricostruire il materiale originario, sia per aver dato nella prima edizione e ora in questa seconda un'ambientazione plausibile della documentazione Schumann nel tempo odierno e un'interpretazione molto interessante di ciò che sta accadendo in questi giorni all'Occidente sempre collegandolo all'organizzazione nascosta che avrebbe fatto da propulsore all'Unione Europea. Nella seconda edizione avevo pregato i miei autori di dedicare la loro attenzione anche all'aspetto presente di quella struttura che abbiamo esaminato soprattutto nel passato. Sento infatti l'importanza di contestualizzare nel nostro mondo odierno ciò che abbiamo visto all'opera in quello trascorso. La vera sfida a cui ci sottopone il dossier Schumann è proprio capire quali possono essere le tendenze in atto della consorteria che abbiamo descritto, che sicuramente agisce dietro le pieghe degli avvenimenti attuali, come analizza con intelligenza il professor Gagli nella sua parte introduttiva. Ho accennato poco fa la vicenda Mattei per far capire che ciò di cui ci siamo occupati in questo libro non appartiene solamente al passato, anzi è una componente del mondo contemporaneo sul quale influisce in modo apparentemente significativo. Un potere occulto che condiziona la politica internazionale e indirizza in vario modo il futuro dei popoli è stato ipotizzato in forma romanzata da qualche scrittore e da produttori cinematografici. È stato supposto da politologi del secolo scorso ma nessuno, immagino, ha pensato che possa costituire realtà, tantomeno che esso sia effettivamente all'opera, dietro le quinte di sovrani, governi, chiese, strutture economiche, addirittura da quando sono sbocciate le grandi civiltà, anche se non è dato sapere che forma potesse avere in quei tempi molto lontani. Torno ad osservare che per tanti anni mio padre e io abbiamo sottovalutato un impianto così imponente come quello prospettato e non solo per una questione di credibilità, quanto per una sorta di istintivo rifiuto verso il significato implicito di quel mondo che tende ad escludere l'uomo comune dall'autodeterminazione politica e sociale e svuota di sostanza le istituzioni democratiche, come ho scritto nella riedizione. infatti l'interrogativo che il nostro libro pone è proprio questo, ciò che accade nella civiltà occidentale, che ormai comprende anche l'Oriente occidentalizzato, cioè la grande politica, è frutto dei parlamenti, delle istituzioni, oppure anche se solo in parte di un gruppo elitario che vive nell'ombra e si serve di quelle istituzioni per i propri scopi. Di fronte a questo sospetto mio padre reagiva con disappunto e ripulsa. La sua formazione cristiana e la fede nei sistemi democratici gli impedivano anche soltanto di interessarsi a comportamenti umani così ambigui. Eppure ricordo che egli non è riuscito a liberarsi del sospetto che qualcosa possa realmente verificarsi all'ombra delle istituzioni. Non si era forse accorto che il suo amico, Monsignor Giovanni Battista Montini, vedeva effettivamente quel mondo occulto all'opera anche nella Chiesa? La grande storia non è spesso frutto di uomini o sistemi economici o ideologici che agiscono dietro al paravento, cioè nonostante quegli ufficiali? Talvolta, parlando con lui di questo, ho avuto l'impressione che gli sia rimasto il pensiero molesto secondo cui, a certi livelli, le democrazie possano andare sfumando in un ambito sempre più verticistico, dove si pianifica con tutta calma un avvenire di cui i popoli nulla sospettano. Questi interrogativi se li sarà posto anche qualche dunasco di coloro che lavoravano dopo la guerra al progetto di unione, il quale probabilmente si è accorto che quell'impianto grandioso non nasceva da nulla, ma riceveva per così dire un prestito confezionato. Ne ho indicato qualcuno nel libro, altri mi hanno pregato di non nominarli e ora certamente non sono più in vita. Indubbiamente qualcosa di strano si muoveva alla radice dell'idea di Europa e io sento che si dovrebbe fare chiarezza, come mi sono risolto dopo tanto tempo che tenevo nell'armario queste memorie. In effetti, con gli anni, mi sono convinto che quel materiale deve essere preso in seria considerazione, senza formulare giudizi aprioristici. Troppi, a mio parere, sono gli indizi concordanti. Sicuramente può servire a comprendere meglio le forze che agiscono all'interno dell'umanità e a considerare che le società non si comportano sempre in modo lineare, come siamo abituati dello studio della storia ufficiale. Noi tre scrittori di questo libro siamo riusciti, anche grazie all'apporto di Terzi, ad arrivare fin dove il materiale consegnato a mio padre ce lo permetteva. Ma io so che esso costituisce appena la punta di una montagna, perciò mi auguro che questa nostra ricerca possa stimolare qualcun altro a sondare là dove gli indizi suggeriscono, convinto che questo filone possa spalancare un mondo del tutto insospettabile, forse qualcosa da cui l'umanità deve liberarsi per poter esprimare realmente le proprie capacità. Grazie. Grazie per essere qui. Intanto, adesso io proseguirei portando alla vostra attenzione alcuni dei contributi specifici che ho dato al libro, come accennava Paolo Morne nella sua introduzione. Per far questo avrò bisogno del supporto delle immagini, ma intanto, diciamo subito, fissiamo subito un concetto fondamentale. Uno dei tipi fondamentali del libro è quello della struttura. Che cos'è la struttura? La struttura è, diciamo subito, un organismo segreto che sarebbe sorti in un lontano passato come conseguenza di uno sconvolgimento globale, su cui ci sono diversi idee che potremmo anche dire più avanti, uno sconvolgimento globale che avrebbe sfrattato via un'antica civiltà, esistita fino a circa 7-8 mila anni fa. Sostanzialmente sarebbe venuto questo, che in seguito a questi sconvolgimenti, un organismo inizialmente ristretto, denominato il collegio dei sorveglianti... Posso chiederle un po' più lontano? Portatelo, sennò accetta l'altro microfono che riceve forse... Poi avanti con questo perché dopo bisogna andare l'acqua per l'immagine. Sì, è un po' più lontano. Sì, sì, ok. Sarebbe successo che in un lontano passato, in seguito a questo sconvolgimento globale, un organismo assolutamente ristretto, chiamato il collegio dei sorveglianti, avrebbe raccolti i cocci e l'eredità di questa civiltà antidimoviana, spazzata via di questo sconvolgimento. Questo è un organismo inizialmente ristretto, poi si sarebbe articolato e complessificato nel tempo fino a realizzare un organismo molto più vasto che, in mancanza di un termine specifico, perché non sappiamo come chiama se stesso questo osionismo, un uomo ha chiamato la struttura a un termine di punto generico, perché non sappiamo come si chiama. Ma questo osionismo avrebbe attraversato l'intera storia, da questo passato antidiluviano fino ai giorni nostri, portando avanti, come diceva l'Evvocato Rumor, un proprio progetto di organizzazione del mondo occidentale in generale, ma in particolare dell'area europea e meriterranea in particolare. Ora, nelle carte di Rumor ci sono dei documenti che illustrano quella che era la geografia antidiluviana. Adesso vado a mostrarvi con lo giro dell'immagine. Grazie. 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 costino attuale, ma corrisponde a com'era effettivamente quell'area mediterraneo in quei tempi, in quell'età, quando il Mediterraneo anch'esso era molto più basso e praticamente l'isola di Malta era congiunta alla parte meridionale della Sicilia e quindi tutte le coste apparevano leggermente diverse da come appaiono adesso. Antemirita è il nome che Malta, l'isola di Malta, aveva in età romana, quindi è un nome che ha riportato nei documenti di Rumor nelle mappe ricopiate da Paolo Rumor. In alto a sinistra possiamo vedere un altro straccio del Mediterraneo dove era presentata l'isola di Galonia, un'isola che in realtà non troviamo nelle mappe attuali, ma non si riesce neanche esattamente a capire a che cosa corrispondesse in realtà, perché non si riesce a identificare quale porzione emersa del Mediterraneo possa corrispondere. Era comunque un'isola che veniva citata già in antichità, in età classica, veniva citata quest'isola di Galonia senza però avere appunto la possibilità di riuscire a identificarla più precisamente. Evidentemente era un'altra porzione di terra emersa del Mediterraneo che oggi non è più riscontrabile. Invece in basso, l'ultimo straccio che vediamo in basso è molto più lontano, Forga Mediterraneo. Colba rappresenterebbe, è un nome che in età rinascimentale era attribuito a Cuba, quindi tutte quelle regioni lì rappresenterebbe la regione caraibica, le Antille, Cuba, eccetera, e quindi il profilo che si vede più a sinistra potrebbe rappresentare quello della terra firma dell'America. Quindi, ecco, questo farebbe capire, la presenza anche quindi della regione caraibica, dell'America, farebbe capire che la struttura e quella civiltante diluviana non era limitata solamente all'area mediterranea e medio orientale, anche se in particolare era limitata, era in centrale di quell'area lì, ma evidentemente si spingeva anche oltre, anche più là, quindi una buona porzione del mondo antico. Andando avanti, sempre questo escursus di carattere storico, che è un po' quello che è stato il mio contributo più specifico a questo libro, magari voi potremmo lasciare alle vostre domande a fine della presentazione fare un focus su quello che è la struttura al momento, nel giorno e nel momento presente. Andando avanti, vediamo, ecco, come diceva l'Avvocato Rumor nella sua presentazione, che ha accennato all'esistenza di mappe e di disegni che rappresentavano la planimetria di Giza. Qui potete, e in particolare la sfinge, qui potete vedere alcune, la riproduzione di mappe, di questi disegni, ricopiate anche questi da Paolo Rumor, ricalcati, se non ricordo male, da Paolo Rumor sulla base degli originali, anche in questo caso, non più disponibili. Fu io, come diceva l'Avvocato, a riconoscere che in alto a destra abbiamo una rappresentazione della spinge. È appena accennata, si intravede appena la testa del leone e la spinge. Al di sotto è rappresentato un grande locale, ipogeo, contrassegnato dalle lettere PR, mentre la spinge è contrassegnato dalle lettere AK, poi dirò quale possono essere i significati di queste lettere. In basso, invece, dall'altra parte della slide, potete vedere una rappresentazione in planimetrica della stessa area, dove ci sono le lettere ARV e AK, è sempre l'area della spinge. Ecco, però abbiamo una rappresentazione planimetrica a livello sotterraneo, sotto il livello del terreno. E dall'area della spinge si ripartono verso le tre piramidi di Giza, che sono appena accennate, sono quei segmenti verso cui si dirigono quei tre cunicoli. Quindi, sostanzialmente, abbiamo una situazione, una rappresentazione di ambienti, ipogei e cunicoli al di sotto della piana di Giza. Ecco, quelle lettere hanno, come dicevo, hanno un significato, hanno una valenza nel contesto dell'antico Egitto, anche se magari con la rumore delle copiate non era consapevole. Perché, intanto poi dirò bene, meglio, qual è il significato di quella stanza contrassegnata con le lettere PR. Intanto dirò subito che PR è un geroglifico che è il suono, il fonogramma di un geroglifico che in Egizio, in antico Egizio, significa casa. Mentre RU è il fonogramma, che vedete la pianta, è il fonogramma di un geroglifico che significa leone, quindi si associa la spinge, quindi è corrente, è concorrente con il contesto, non sono lettere buttate lì. E AK potrebbe essere, questa è la mia interpretazione, non è un geroglifico insieme, ma potrebbe essere l'abbreviazione di un nome di una divinità egizia, Aker, che era una divinità rappresentata come due leoni contrapposti con un sole nascenti a simboleggiare l'orizzonte. Quindi sono delle notazioni che hanno una valenza e un significato nel contesto in cui sono ammesso. Prima di andare oltre, di spiegare qual è l'importanza di quel locale contrassegnato con le lettere PR, però fece un'osservazione, questo è ancora ai primi tempi del nostro rapporto con l'avvocato, quando cominciò a studiare queste carte, venise conto che queste rappresentazioni erano estremamente simili ad altre che circolavano negli anni 30, a cominciare dagli anni 30, e circolavano i libri di autori, di un paio di autori, perlomeno quelli che ho identificato io. Uno era, citato l'immagine della slide, Randall Stevens, che era un mistico e medium americano, che in un libro del 1935 propose queste problematrie. Come vedete l'impianto è perfettamente identico a quelle delle mappe ricopiate da Paolo Lavoro. Questo è un caso, ma qualche... l'anno dopo, un altro autore, Spencer Lewis, nel 1936, pubblicò qualcosa di estremamente simile. Vedete, cambiano un po' i dettagli, come sono rappresentati i locali pogei, come è rappresentata la spinge, le colonne, come sono fatte, però l'impianto è esattamente lo stesso. E ecco, Spencer Lewis, per dire chi è, fu il fondatore di Amor, che è antico e mistico ordine della Rosa Croce, lo fanno nel 1915, quindi un personaggio di una certa importanza, almeno in ambito esoterico. Ecco, un'altra ancora riproposizione di queste grafiche è ancora di Randall Stevens in un suo libro del 1966, per cui torna su queste rappresentazioni in maniera ancora leggermente diversa, ma alla sostanza è sempre quella. Abbiamo lo spingio, lo carico geo e con i coli che si ripartono verso le tre piramidi. Quindi, io feci questa situazione, ma ovviamente è difficile dire, più che dire che c'è un rapporto tra tutte queste rappresentazioni, è difficile dire, cioè non si riesce a capire in quale direzione ha avuto lo scambio, cioè chi ha copiato chi o se invece ci fosse addirittura una fonte, soprattutto da cui sono originate tutte queste diverse rappresentazioni. Una cosa sicuramente discutibile è che ci deve essere comunque un rapporto tra queste rappresentazioni. che, ripeto, provengono da metà, un periodo, a cominciare dai anni trenta, poco prima che Giacomo Rumore cominciasse a ricevere i documenti che poi fanno parte dell'incartamento confluito nel memoriale di Paolo Rumore. Ecco, andando avanti, cominciamo a parlare di una cosa, facciamo un passo avanti. Parliamo di scoperte, di ritrovamenti archeologici che i membri della struttura riuscirono a effettuare a Cavallo tra il 1800 e il 1900. Ritrovamenti di cui l'opinione pubblica a noi non sappiamo nulla perché furono tenuti segreti, ma erano ritenuti di grandissima importanza da parte della struttura perché in qualche modo intanto venivano a confermare concetti e tradizioni che si tramandavano da tempo e si riteneremo che tali documenti fossero andati perduti. Comunque viene interpretato quasi come un segnale per cui era venuto il momento di mettere in atto un progetto preparato da lungo tempo. Questo progetto sarebbe poi stato quello che ha portato al processo di unificazione dell'Europa insieme ad altre finalità. Cosa furono queste scoperte? Si tratta di documenti scritti e da cui provengono buona parte delle informazioni che poi sono confluite nell'archivio dei documenti prevenuti in mano a Giacomo Rumore. Ci tratta di questo. Il primo di tali reperti sono le tavolette di gesso rinvenute nel 1872 proprio nel locale PR. In quel locale che vedevate rappresentato questa sezione è al di sotto della spinge. Poi approfondiremo tra poco la cosa. Ecco, questi tavoletti furono rinvenuti nel 1872 dai fratelli Dixon, che sono due noti archeologi inglesi che in quegli anni lì operavano a Giza, fecero alcune scoperte accreditate dagli egittologi e dall'archeologia, ma questa ovviamente non è nota a nessuno perché rimase segreto. I fratelli Dixon tra l'altro sono citati nell'elenco dei membri consultivi della struttura, quell'elenco che citava Paolo Rumore e il cui approfondimento è una parte importante e ponderosa di questa nuova edizione. Nella prima edizione ci eravamo limitati a riportare i nomi nativi e fare pochi approfondimenti. In questo caso invece in questa nuova edizione abbiamo cercato di sviscerare ad uno ad uno tutti i personaggi citati, per cui appunto figuravano i fratelli Dixon. Non a caso perché riteniamo che siano stati loro a effettuare questa scoperta. Il secondo rinvenimento archeologico effettuato poco dopo, all'inizio del Novecento, si tratta di rotoli di Mosaivin. Mosaivin è una città ai confini fra Turchia e Siria. In questi rotoli vi sono contenute la maggior parte delle informazioni relative appunto a quella citata di Luviana da cui sarebbe provenuta originata la struttura. Ora ecco, andando avanti, andiamo avanti facendo un approfondimento appunto su locale PR, che sarebbe il luogo del ritrovamento delle tavolette di gesso. Allora, ecco, nei documenti di rumor si trova una discrezione di questo genere riguardo appunto all'occhio che sarebbero state ritrovate le tavolette. Si dice così, il vanno ipogeo si troverebbe lungo il corridoio che collega la spinge alla piramide di Kufu, che è chiamata la prima piattaforma, e sarebbe situato nel PR, come dicevo prima, sotto la spinge, in un ambiente artificiale semiallagato, con degli incavi laterali, al cui centro è ricavato un rialzo, su cui giacciono delle colonne cadute. Ecco, queste appunto virgolettate sono proprio le descrizioni testuali che erano presenti nei documenti dell'archivio rumor e che descrivevano per l'appunto i locali in cui sarebbe avvenuto quel ritrovamento. Ora, diciamo, chiariamoci tutta una cosa, l'archilogia ufficiale oggigiorno non conferma l'esistenza del locale ipogeo di quelle caratteristiche esattamente al di sotto della spinge, però facendo uno studio di approfondimento personalmente, una descrizione di questo genere che vi ho appena letta si attaglia molto bene ad una struttura ipogea che si trova poco distante dalla spinge. In questa slide potete vedere una rappresentazione della piana di Gila, dove c'è la spinge, le tre piramidi e in mezzo c'è un puntino rosso, dove vedete la scritta il polso di Osiric. A destra, in questa slide, c'è una rappresentazione assonometrica di una struttura ipogea che si trova dove vi è quel punto al segno rosso, quindi è una posizione praticamente intermedia fra la spinge e la piramide di Capre, o Kefren, e praticamente al di sotto della via rialzata che collega il tempio a monte della piramide di Kefren con il tempio a valle, sempre della piramide di Kefren, e il tempio a valle che si trova poco oltre la spinge. Ebbene, potete anche vedere chiaramente che questa struttura ipogea è caratterizzata da diversi condotti verticali di discesa e da tre livelli, un primo livello, un secondo ed un terzo, che se ricordate l'escrizione appena letta, in cui si parlava di un'isola circondata da un canale allagato con il vaso dall'acqua, e queste isole con colonne agli angoli, eccetera. Ecco, quella descrizione che abbiamo appena letto e che ripeto si trovava negli incartamenti di rumor, corrisponde molto bene a questo terzo livello, livello più profondo di quello che si chiama che è il Pozzo di Osiride. Questa struttura ipogea è nota da poco tempo, perché è stata scoperta da Zai Abbas, che è il sovrintendente dell'autorità, il sovrintendente ai beni archeologici dell'Egitto, è stata scoperta nel 1999. In realtà è stata, era nota già almeno dagli anni 30, quando fu individuata dall'archeologo Sili Massan, l'industria archeologo Sili Massan, ma non poté arrivare al livello più profondo perché allora la struttura, questa struttura era completamente invasa dall'acqua, perché la fanda freatica della Piana di Giza allora era anche molto più alta di adesso e la struttura era completamente invasa dall'acqua. Zai Abbas, poco meno di 20 anni fa, riuscì a drenare completamente l'acqua e quindi a liberare questa struttura dall'acqua e in questo momento soltanto adesso siamo in grado di vedere com'è conformata questa struttura e siamo in grado di ravvisare che esiste questa stretta somiglianza nella descrizione tra il locale PR e questa struttura che non era nota, ripeto, voglio bene, voglio che sia chiaro, non era nota i tempi di Giacomo Romoro. Quando Giacomo Romoro riceveva questi documenti con la descrizione che aveva appena lette, questa struttura non era nota, non si sapeva che esistesse se non per l'imboccatura più superficiale, ma non era ancora stata esplorata. Quindi voglio farvi rilevare come appunto sia un fatto abbastanza curioso che poi anche dovrebbe in qualche modo confermare, essere un elemento a sostegno della credibilità di tutto il materiale, il fatto che esistessero informazioni in questi documenti che non potevano essere note ai tempi, sostanzialmente. Ecco, cosa c'è di importanti in questa conformazione? Se vi ricordateci fate presente tenetamente la conformazione del livello inferiore del posto visivo e vedete che richiama molto bene la conformazione di quest'altro monumento dell'antichegitto, l'Osireno di Siti I ad Abitus. Ma cos'ha di particolare questa conformazione? Cioè una forma ad isola con un canale invaso dall'acqua che lo circonda completamente? L'ho messo, la cosa importante, il fatto importante è quello che ho posto a metà fra la pianta e la fotografia dell'Osireno. È il geroglifico che in antico Egizio suona PR e che significa casa. Notate bene ancora. Quello è il geroglifico che significa casa e che suona PR. Questo si rilaccia al locale PR che ha la forma del geroglifico. Quindi è tutto coerente. Tutta questa narrativa è coerente. C'era una coerenza nel chiamare PR quei locali in cui furono ritrovate le tavolette di gesso perché la conformazione stessa delle locale richiamava il geroglifico che suona PR. Zai Avas aggiunge questo, un altro elemento di coerenza in tutto questo. Secondo Zai Avas c'era il geroglificato del locale delle lettere PR e si riallaccia ad un epitodo che era attribuito alla Piana di Giza. Ed era questo che leggiamo in questa slide. Per Vesel neba Rastal. Cioè che significa in Antico Egitto casa di Osiride signore di Rastal. Quindi c'è un ulteriore elemento di coerenza in tutto questo. Sostanzialmente quindi il posto di Osiride era ritenuto la casa di Osiride e Rastal era il nome e il nome è attribuito da Antiche Egizi a Giza e nel nome stesso di Rastal era contenuta l'idea di ambienti sotterrani. Quindi un ulteriore elemento anche questo di coerenza in tutto il discorso. Ecco, per tirare le fila di questo ragionamento. Quindi la nostra proposta è che, la mia proposta è che sostanzialmente il locale PR in cui furono trovate le tavolette di gesso si possa identificare con il livello inferiore del pozzo di Osiride anche se non va sottotutto il fatto che esiste un elemento di difformità, nel senso che nella mappa ricoppiata da Paolo Rumor il locale PR figurava esattamente lì sotto della spinge, mentre come abbiamo visto il pozzo di Osiride non è esattamente lì sotto della spinge, si trova leggermente dislocato a qualche centinaia di metri dalla spinge, ma la somiglianza è tale per cui pensiamo che questa identificazione possa essere in qualche modo credibile ed essere ritenuto l'elemento che questo ha supporto la credibilità di tutte le informazioni contenute nell'archivio Rumor. E' venuta anche in altri casi che le informazioni fossero riportate in maniera deliberatamente modificata, quasi per avere nato deliberati dei pistaggi, e in qualche altro caso si è riscontrato anche questo. Quindi questo potrebbe essere un altro caso di un deliberato di pistaggio nel dislocare diversamente il locale PR. Qual è il contenuto delle tavolette di gesso? Che cosa viene scritto in queste tavolette? Ora, non abbiamo la trascrizione completa delle tavolette di gesso, però in base ad alcune stracci che ci sono prevenute, in base anche a informazioni contenute in altri documenti, come ad esempio le rotole di musai, possiamo dire che sostanzialmente le tavolette di gesso contenerono l'essenza spirituale dell'antica civiltà, cioè in qualche modo l'essenza della conoscenza di questa antica civiltà. E contenerono in particolare una sorta di avvertimento, un avvertimento che era collegato con lo sconvolgimento globale che aveva spazzato via questa antica civiltà. L'avvertimento era riportato scritto in termini matematici e scientifici molto precisi, cioè si parlava di coordinate di coordinate geografiche, di allenamenti con siti sulla terra e anche con determinati corpi celesti. E possiamo dire che questo avvertimento era legato alla minaccia del ricorrente verificarsi di eventi geofisici noti come slittamenti polari. Cioè praticamente lo sconvolgimento che avrebbe causato la fine di quella antica civiltà sarebbe stato uno slittamento della crosta terrestre che è un fenomeno che è stato studiato e supportato in particolare da uno di archeggi, nell'elenco di membri consultivi delle strutture, insieme ad altri due nomi, Campbell e Mallery, che furono solo collaboratori dovevo sviluppare questa teoria. quindi per riassumere e concludere questa esposizione, incentrata sul locale Pierre e sulla Pozzo di Osiride, possiamo dire che in qualche modo in questo locale, locale Pierre e dove furono poste le devolette di gesso, si cercò di realizzare in qualche modo un tabernacolo, il tabernacolo di questa antica civiltà. Qualcosa che ricorda molto da vicino quello che diceva anche il gar case delle sue letture, quando parlava della sala dei documenti in cui sarebbe stata conservata l'essenza di una remota e antica civiltà. Io fermerei qui la mia esposizione per lasciare più spazio anche alla vostra domanda e alla possibilità di discutere anche di aspetti legati magari più al presente, alla presenza viva della struttura, anche nel nostro tempo e negli avvenimenti del nostro presente. Grazie. 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 Due domande? Partiamo dalle tavolette. Queste misteriose tavolette, che cosa sappiamo al di là di questi contenuti? Cioè, sono conservate, sono scomparse? Potrei darmi la risposta, però magari, visto che sono state indicate come documenti, quella di maiuscola, prezionati. Purtroppo non sappiamo dove siano, non sono accessibili al pubblico, ovviamente abbiamo detto più volte questi documenti, non sappiamo neanche dove siano conservate le tabellette. Sappiamo solo, abbiamo un'informazione, un indizio su dove potrebbero essere conservati quegli altri documenti che citavo, i rotoli di Nusaimin, i rotoli di Nusaimin, quell'altro documento che citavo, quindi dovrebbero essere conservati, secondo le informazioni contenute nell'archivio Rumor, in Inghilterra, nel Devonshire. E anche, viene citata anche la località della Cappella di Rossi, che potrebbe essere un candidato per il possibile, come deposito, come luogo in cui potrebbero essere conservate le tabellette, ma anche se non abbiamo informazioni certe riguardo, non so se Paolo vuole dire. No, non posso aggiungere nulla, perché non sono un esperto, mi sentite, mi sentite, no? C'era spia rossa? Sì, non sono al corrente di queste cose, non sono, l'ho sempre detto anche di tutti, no no, non ho ricordi, ho scritto tutto nel libro e quindi non posso aggiungere nient'altro. Mi sembra di annotare una cosa. Io sono restio, lo sono sempre stato, restio a dare credito a ciò che è arcano, a ciò che facilmente attira con il fascino del mistero, eccetera. E lo era anche mio padre. Il fatto che questo lungo elenco di nomi, forniti da Schumann a mio padre, retroceda nel tempo, sia identificabile, fino ad arrivare a una data inverosimile quasi, di 10.500 anni prima di Cristo, ci è sempre sembrata una forzatura, ci è sempre sembrato un elemento misterico, quelle cose di cui a volte le società, le associazioni si circondano per darsi importanza. e non lo consideriamo, parlo al plurale perché sono discorsi che si facevano in famiglia, non lo consideriamo un elemento essenziale. può essere affiziato da enfatizzazioni successive, come a volte succede anche nelle casate gentilizie. mi ha sempre interessato e preoccupato di più l'aspetto presente di questa struttura che considero piuttosto grave è che ho sempre cercato di respingere perché come dire non trovavo giustificazione all'idea che in nostri giorni una struttura nascosta di persone possa determinare tracciare degli equilibri politici che poi noi ci troviamo negli avvenimenti di ogni giorno. E invece questo è l'essenza del messaggio di tutto quello che deriva da Messie Schumann e che mio padre anche trovava incomprensibile incomprensibile per un uomo della struttura di Schumann di questi personaggi che lui indicava come suoi antecedenti. però sappiamo che sappiamo che queste che le cose voglio dire che appaiono ogni giorno sul giornale che appaiono nella cronaca eccetera hanno sempre un retroterra hanno qualche cosa che gli determina che li causa noi siamo propensi a pensare che succedano per caso che le cose avvengano spontaneamente non ci preoccupiamo di interrogarci sulla concatenazione degli eventi che succedono e invece quello che accade accade perché c'è un retroterra perché è provocato da altri eventi noi abbiamo assistito a un certo punto alla nascita di questa Unione Europea e lo abbiamo dato per scontato abbiamo sempre pensato che sia stata una creazione di persone esistenti dopo la guerra che si sono attivate eccetera eccetera e tuttavia non è se ci pensiamo non è credibile non è credibile che le cose maturino all'improvviso hanno sempre un lungo periodo di incubazione di maturazione lo stesso risorgimento italiano ha avuto almeno 150 anni di incubazione ha fatto riferimento all'impero romano cioè noi nel nostro nel nostro cervello abbiamo dei sedimenti che in certi momenti si attivano e travasano nel presente esperienze del nostro passato nel caso dell'Europa ci troviamo con un grande apparato contemporaneo che dice di essere stato pensato da molto tempo da lunghissima data e ci dice quali sono i personaggi che si sono occupati di questo o restringiamo tutto come delle foto come delle invenzioni o qualcosa del genere e siamo stati tentati di farlo oppure dobbiamo prendere il toro per le corna e cercare di capire cosa c'è dietro a questo persone dell'allevatura di Schumann non possono inventarsi certe cose altre persone che ho citato nel testo non possono partecipare ad una ad una consorteria così diciamo solo per passare il tempo solo per darsi importanza deve esserci qualcosa di reale anche perché questo comporta perdita di tempo comporta a volte perdita anche di valori e altre cose di credibilità e noi abbiamo una serie di personaggi di grande calibro non uomini mediocri chi leggerà il libro vedrà che parlano si parla di persone che almeno nel settecento ottocento hanno avuto una grandissima funzione in tutti i campi del sapere e queste persone hanno portato avanti sono state disponibili a portare avanti questo mitico disegno di Europa Unita che si fa si rifà ad un antecedente di diecimila anni fa perfino quando non si credeva che non esistesse nulla tranne le capanne di paglia eppure da qualche anno è stato dimostrato che le svingi non sono le piramidi non sono state costruite nel 2000 avanti Cristo nel 2400 ma risalgono addirittura al 10.000 avanti Cristo quindi certe cose che noi diamo per scontate possono non essere fatte e termino concludendo con questo esprimendo il concetto che non tutto quello che ci sembra strano che ci sembra inverosimile può esserlo perché tante cose noi non sappiamo del nostro passato tante cose sono state addirittura deliberatamente nascoste continuiamo a scoprire l'archeologia e la psicologia continuiamo a scoprire elementi che non avremmo mai sospettato una delle ultime scoperte sconvolgenti eppure reali è la nascita del cristianesimo che nessuno di voi immagino conosce perché viene tacciuta al grande pubblico e un giorno la troverà la luce anche questa io mi auguro solo che questo nostro libro serva di battipista faccia venire la voglia a qualcun altro di sondare là dove noi non siamo riusciti ad arrivare e sono convinto che non tutto quello che noi sappiamo racchiude la verità la verità è molto più profonda deve esserci una radice molto più profonda che ci porta a qualche cosa di cui neanche forse ci rendiamo conto tutta una grande civiltà ha preceduto le civiltà che noi conosciamo ed è stata completamente spazzata via non ha lasciato quasi nessuna traccia e mi auguro che la vostra che la lettura sia mi sia gradita e vi ringraziamo per il tempo che ci avete dato per l'ascolto per l'ascolto che c'è